Il singhiozzo di George è passato Ecco che arriva papà Pig con due bicchieri di succo di frutta George, se bevi troppo in fretta il tuo succo ti verrà di nuovo il singhiozzo Dato che io non sono piccola come George, posso bere il mio succo di frutta velocemente se voglio farlo Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig